Contro i danesi del Brandi, al 22esimo del primo tempo un colpo di testa di Cappioli, molto bello, il portiere Krog salva. Interviene Totti che realizza il primo gol della squadra giallorossa e poi passiamo al secondo tempo. Vedete che lo svedese Tern anticipa il centrocampo, gli avversari avanza da Avaldo che va a cogliere l'angolo alto e la vista del portiere Bonetti. Sono 2-0 quando la partita sembra vinta, la qualificazione già ottenuta, Meller su un errore della difesa mette in discussione la qualificazione con il gol del 2-1. Ma all'ultimo minuto Totti dà a Carboni, come vedete questo bellissimo pallone e Carboni segna il gol della vittoria, cioè della qualificazione. Il risultato è di 3-1 per i giallorossi, quindi giallorossi qualificati.